Come vorrei che ognuno nella Chiesa, ogni istituzione, ogni attività, riveli che Dio ama l'uomo. La missione che i nostri organismi di carità svolgono è importante, perché avvicinano tante persone povere a una vita più dignitosa, più umana, quanto mai necessaria. Ma questa missione è importantissima, perché non ha parole, ma con l'amore concreto può far sentire ogni uomo amato dal padre, figlio suo, destinato alla vita eterna con Dio. Così Papa Francesco nel suo discorso ai partecipanti al congresso promosso dal Pontificio Consiglio Corunum ha dieci anni dalla prima enciclica di Benedetto XVI, Deus Caritas Est. La carità, ha spiegato il Pontefice, è al centro della vita della Chiesa e ne è il cuore, perché Dio associa alla sua vita di amore l'uomo. Il suo venirci incontro, culminato nell'incarnazione del figlio, è la sua misericordia. L'enciclica di Papa Benedetto ci ricorda che ogni nostra forma d'amore, di solidarietà, di condivisione è solo un riflesso di questa carità che è Dio. Perciò dobbiamo guardare alla carità divina come alla bussola che orienta la nostra vita prima di incamminarci in ogni attività. Grazie a tutti.